Buonasera, benvenuti a tutti all'appuntamento mensile dell'Associazione Educativa e Filosofia. Questa sera, come avete visto, c'è la presentazione di Bruno Forti relativamente al tema della coscienza, un tema che è già stato trattato in precedente incontro, ma che abbiamo ritenuto di poter riproporre, perché è una questione che ci riporta a un crocevia, relativamente a quelli che sono gli approcci disciplinari, le conoscenze, l'intersezione anche fra un approccio filosofico e uno più ovviamente clinico, psichiatrico. Bruno Forti, appunto, oltre ad essere stato il direttore di partimento istituzionale della ULSS delle Zolomiti, è notoriamente una persona che ha approfondito molto questo tema e che è già apparso in altri video trattando la questione. Gli cedo molto volentieri la parola. Grazie a tutti. Cerco prima di tutto di condividere lo schermo. Vediamo se ci riesco. Ci sono riuscito? Sì, certo. Bene. È già il primo passo, quello più importante. Dunque, questa è l'altra conferenza che abbiamo fatto per psichiatria e filosofia, l'abbiamo fatta ormai quasi un anno fa, era giugno se non ricordo male. Abbiamo parlato così un po' in senso molto lato di cercare di definire il problema della coscienza e poi abbiamo parlato soprattutto del rapporto con le basi neurobiologiche della coscienza. Ovviamente non c'è solo questo. Sapete che c'è tutto un dibattito, soprattutto dalla fine dello scorso secolo, dagli anni 80, tardi negli anni 80, primi anni 90, che verteva che ha interessato, diciamo, quelli che adesso si potrebbero chiamare l'esagono della scienza cognitiva, viene chiamato, che comprende psicologia, filosofia, linguistica, neuroscienze, intelligenza artificiale, anche antropologia. Non c'è la psichiatria purtroppo. Tra l'altro, uno dei problemi, adesso non mi soffermerò su questo, ma uno dei problemi, l'ho anche scritto in un articolo recente, è che c'è, diciamo, uno scarso interesse da parte degli psichiatri su un argomento che invece riguarda tutta la loro vita professionale quotidiana, insomma, sia come oggetto dell'indagine, cioè il soggetto che ti sta di fronte, sia per il fatto che comunque il nostro strumento principale dell'indagine è il fenomenologico, è il nostro essere coscienti. Ma non sto ad entrarmi su questo che richiederebbe anche una riflessione abbastanza più approfondita. Il titolo, innanzitutto, quello che io voglio parlare è un po', anche se non da filosofo, perché chiaramente non sono un esperto di questo campo, e di quello che tradizionalmente è stato chiamato rapporto fra mente e corpo. In anni recenti, visto che si sa che il cervello è implicato, almeno quasi esclusivamente, anche se adesso si parla di mente stesa, nella mente, è il rapporto fra mente e cervello. Però, come sappiamo, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, è venuto sempre più emergente il rapporto fra quella che è la mente conscia e la mente inconscia. Adesso si potrebbe dire che il problema è il rapporto fra coscienza e cervello, però in realtà questo rapporto non è un rapporto diadico, ma appunto quello che io voglio cercare di mettere in rilievo oggi è che si tratta di un rapporto a tre. C'è stato un rapporto fra mente, cervello e coscienza. E questo, ripeto, è stato così, si è evidenziato un po' nel tempo, nel momento in cui il problema della coscienza è emerso gradualmente nella sua rilevanza, nella sua misteriosità, se possiamo dire. Allora, innanzitutto sappiamo che abbiamo, scusate qua, perché non riesco a muovere? Abbiamo due posizioni principali, che sono quelle del dualismo, il dualismo delle sostanze e il dualismo delle proprietà, e l'altra è quella del monismo. C'è solo una sostanza, quindi l'idealismo e il materialismo o fisicalismo. Dirò subito che di fatto nessuna delle posizioni sul rapporto mente-corpo è sufficientemente plausibile. Il dualismo delle sostanze lo conosciamo, è attribuito soprattutto a Cartesio, qui esistono due generi di sostanze diverse e distinte, capaci di esistenza indipendente e dotate di proprietà proprie. La materia tipicamente ha come proprietà l'estensione e la mente ha come proprietà la capacità di essere pensante. Quindi la mente non è solo un insieme di pensieri, ma è un soggetto, è ciò che pensa. L'altro dualismo delle proprietà, diciamo una versione un po' più soft del dualismo, esiste solo un tipo di sostanze che però può avere proprietà sia fisiche che mentali, ma è però non riducibili a proprietà fisiche. Per alcuni, non per tutti, queste proprietà non fisiche possono influenzare quelle fisiche. Per completezza dico che c'è anche il dualismo dei predicati, che è più una questione terminologico-linguistica, per cui non tutti i predicati mentalistici sono riducibili ai predicati della fisica, però dipende se ci riferiamo a termini che si relativi a generi naturali o termini relativi a generi funzionali. Sappiamo, bene o male, quali sono o no le qualità che Cartesio aveva attribuito alla mente e rispettivamente al corpo, cioè la mente pensa appunto al corpo esteso, la mente conosce direttamente, il corpo è conoscibile direttamente, il corpo è conoscibile indirettamente, il libero arbitrio è un problema tutto raperto, la mente, e questo è un problema, è un fatto assodato, la mente è indivisibile, unitaria, si potrebbe anche dire con termine attuale o integrato, però è uno dei problemi che è più centrali adesso nella teorizzazione della coscienza, mentre il corpo è divisibile, la mente, vabbè, su questo non mi soffermo, è indistruttibile e il corpo è corruttibile. Qual è il problema più grosso del dualismo delle sostanze? Sostanzialmente il problema più grosso non è quello di concepire, di supporre che esiste qualche entità immateriale e di capire come questa entità immateriale possa interagire con il mondo fisico senza, adesso non sto andando nel dettaglio, comunque senza violare la chiusura del mondo fisico stesso. E d'altra parte c'è il monismo, che sia il fisicalismo, su questo ci sono varie categorizzazioni del fisicalismo e dell'idealismo. Si può parlare di fisicalismo riduzionistico e non riduzionistico, e anche quello eliminativistico. L'idealismo invece è la concezione per cui l'universo completamente mentale o spirituale non esiste nulla tranne le idee, introdotto da Berkeley. Sicuramente si potrebbe dire che è una posizione superata, poco accettabile, sicuramente implausibile e controintuitivo, pensiamo per esempio alle allucinazioni, non spiegherebbe le allucinazioni, ma è difficilmente però confutabile sul piano filosofico. E pensiamo anche, anche se non è la stessa cosa col pamsichismo, pensiamo che l'idealismo è in qualche modo imparentato col pamsichismo, pamsichismo che è stato introdotto recentemente da numerosi autori per risolvere il problema del rapporto fra struttura e un'entità come la coscienza che non sembra avere struttura, cioè il problema viene risolto alla base, supponendo che la coscienza sia una proprietà fondamentale della materia, così come la massa, cioè esiste anche in agglomerati fisici molto semplici, ma cresca, diventa qualcosa di, come Tononi, col termine Phi in qualche modo concettualizzato, diventa qualcosa di più simile alla nostra coscienza quantitativamente con un'organizzazione sempre più complessa. Quindi l'organizzazione non ha a che fare col sorgere della coscienza, ma con la quantità di coscienza. Sappiamo che esiste anche un monismo neutrale di cui il rappresentante più importante è stato Spinoza. Questo è, ve lo lascio scorrere, questa è la posizione dell'idealismo che postulava Dio per superare il problema dell'esistenza di un albero, di un pino in assenza di qualcuno che lo guardava. Il materialismo, abbiamo detto che può essere riduttivistico, non riduttivistico, ha avuto varie accezioni, materialismo o fisicalismo. Innanzitutto quello che è stato di fatto il comportamentismo o il behaviorismo, che qui possiamo chiamare comportamentismo metodologico, che non negava l'esistenza di una mente, ma diceva che la mente non è studiabile scientificamente, non è pubblicamente osservabile, tanto che veniva in qualche modo assimilata a una scatola nera. Così dico, a passante, uno dei primi che ha messo in discussione il discorso del materialismo è stato Cioschi con la incompatibilità dello sviluppo di una capacità così articolata, così complessa come il linguaggio, a fronte di una povertà dello stimo. Cioè i bambini riescono ad articolare frasi linguisticamente corretti, a crearne di nuove, non solo ripetendo quello che sentono dall'esterno. Quindi questo è una delle cose che ha messo in discussione il comportamentismo. Dall'altra parte se il comportamentismo logico, cioè supporre che si sia una mente, rappresenta un errore categoriale, invece della scatola nera qui abbiamo il fantasma nella macchina. Un esempio potrebbe dire, ma la coscienza è come un ospedale, io vado a visitare, vedo i letti, vedo le sale operatorie, vedo le cucine, eccetera, eccetera, però poi mi chiedo sempre dove è l'ospedale in qualche modo. Quindi secondo i filosofi come Lorti che l'hanno proposto rappresenta un errore categoriale. Poi le vedremo, c'è la terriode dell'identità, lo vedremo il funzionalismo e c'è l'eliminativismo proposto da Dennett, per cui non sto qui a parlarne perché ci porterebbe troppo tempo. Lui vede una coscienza come un'illusione, quando sappiamo che l'illusione è comunque un po' come una licenazione, non può non essere cosciente, anche se in assenza o in diversità dallo stimolo esterno. Gli altri autori che hanno proposto l'eliminativismo sono i coniugi Cersen, di cui parlerò più avanti, che riprenderemo più avanti. Per quanto riguarda il comportamentismo logico, dicono che la sette, e la sensazione di sette non è altro che una disposizione a bere nel momento in cui c'è una situazione che lo permette, cioè in presenza di acqua. Allora, la teoria dell'identità. Chiaramente questa teoria dell'identità è quella a cui, l'altra volta abbiamo parlato dei correlati neurofisiologici della coscienza, a cui tenderebbe qualsiasi neuroscienziato, qualsiasi medico, qualsiasi psichiatra, qualsiasi... cioè la soluzione dovrebbe essere quella. Di fatto si parte anche da un ragionamento anche comprensibile, condivisibile. Per quanto riguarda la scienza, non c'è il mondo nient'altro che di sistemi fisici fisici di crescente complessità, dappertutto tranne con un posto. La coscienza, che tutto sia spiegabile in termini della fisica, tranne che fenomeni come le sensazioni vi sembra francamente incredibile. Diceva Smart, che insieme a Pley, Sam, Strom e Feigler erano i filosofi che hanno parlato di questo problema. Le obiezioni logiche che potrebbero essere sollevate, l'affermazione, la coscienza, un processo cerebrale, non sono maggiori delle obiezioni logiche che potrebbero sollevate, l'affermazione, la luce e un movimento di cariche elettriche. Come dice Leibniz, due cose identiche dovrebbero avere in comune tutte le loro proprietà, come la lampo e la scarica elettrica, come l'acqua e H2O. Si tratta chiaramente, in questo caso, non è una identità per definizione, non sto dicendo che un quadrato è un rettangolo equilatero, è un fatto empirico che va dimostrato. I teorici d'identità dicono, ovviamente, provocatoriamente, così come i fulmini sono scariche elettriche, il dolore è l'attivazione delle fibre C, che trasportano le fabbriche, le scariche, le sensazioni del dolore. Si può essere l'identità dei tipi e l'identità delle occorrenze. L'identità dei tipi vuol dire il dolore è un tipo di sensazione che è identica a un certo tipo di occorrenza cerebrale, l'occorrenza è quella singola, il singolo dolore che io provo in un certo momento. Ovviamente, in questo caso, si rischia di ricadere nel dualismo delle proprietà. Vedremo come il monismo non riduzionistico e il dualismo delle proprietà in qualche modo si tocchino. Allora, quali i problemi dell'altro dell'identità? Uno è il problema della realizzabilità multipla, cioè ci possono essere tante configurazioni cerebrali che sottendono a una sensazione di dolore. C'è il problema, ovviamente, dell'ontologia in prima persona, le mie sensazioni di dolore sono in prima persona. Una configurazione cerebrale attiva è in terza persona. Per non parlare poi del problema più grosso, che è quello dell'alprome e del colmare il divario esplicativo fra quelle che sono le sensazioni soggettive e una struttura cerebrale di un certo tipo. Per cui anche non solo una cosa così semplice elementare come le fibre C, ma anche una struttura, una configurazione attiva molto complessa del cervello, è difficile affermare che questa sia identica alla sensazione anche la più semplice possibile che io provo in un certo momento. Per uscire da questo impasse, che è stato proposto appunto che esisteva negli anni 50, uno degli autori più così implicati in questa posizione del funzionalismo è stato Pappenmann. Lui diceva che il dolore non è uno stato cerebrale per cui bisogna affermare un'identità, ma uno stato funzionale per l'organismo. In questa prospettiva uno stato mentale è diventato dal ruolo causale svolto in un'organizzazione cognitiva. Il dolore è definito funzionalmente un intermediario causale fra input come danno tessutale e output come un lamento, come l'immobilizzazione del corpo, come il pianto, come l'evitamento. Le operazioni mentali, i processi mentali, sono altro che descrizioni a strada di altro livello rispetto ai dispositivi materiali in cui i programmi sono realizzati. La mente opera a un livello superiore, cioè gli stati e le proprietà mentali sono realizzati, o potremmo dire implementati da stati e proprietà materiali, senza però coincidere o essere identificabili con essi. Il dolore è realizzato dal sistema nervoso, ma avere dolore non è una proprietà materiale. Qui c'è la definizione del funzionalismo, c'è un qualcosa, un processo viene definito in senso funzionale. Un orologio è qualcosa che mi serve per misurare il tempo, però per misurare il tempo posso avere sia un orologio a ingranaggi, sia un orologio che funziona con le ossidazioni al quarto, ma posso avere anche una meridiana, posso avere anche un'eclissidra. E tutti mi consentiranno di misurare il tempo in maniera più o meno adeguata. Per cui gli stati mentali, definiti in un'ottica funzionale, non sono definiti dalla loro struttura fisica, ma dalle loro relazioni causali. Una credenza è semplicemente un'entità che sta in certe relazioni causali con gli stimoli in entrata, con il comportamento, ma non solo, ma anche con altri stati mentali. E quindi può consentire un ragionamento, un pensiero. Per arrivare a quella che è così, l'affermazione è anche molto diffusa, molto conosciuta, per cui c'è l'assimilazione del cervello a un computer digitale e di ciò che chiamiamo mente al programma. Cioè gli stati mentali sono stati computazionali, per cui semplificando molto la mente sta al cervello come il programma sta al hardware. Ciò che differenzia il funzionalismo quindi dalla teoria dell'identità e la sua realizzabilità multiple, lo stesso programma, lo sappiamo benissimo, può essere realizzato sia da neuroni che da silicio. Invece ciò che differenzia il funzionalismo e quindi il cognitivismo che discende in qualche modo dalla produzione filosofica del funzionalismo e dal comportamentismo invece il concetto di rappresentazione o stato mentale. Cioè la rappresentazione mentale nella formulazione, almeno quella più classica, data da simboli discreti, differenziati in base a caratteristiche formali, è manipolati secondo un insieme finito di regole. Qui siamo alla visione di Turing. Anche se i simboli hanno una semantica, le regole per la loro manipolazione sono sintattiche. A differenza che nel comportamento, gli stati mentali sono reali stati interni di un organismo e sono dotati di poteri causali. Questa non è altro che una conseguenza, se vogliamo, dell'ipotesi computazionale della mente, per cui c'è una teoria della coscienza che si chiama rappresentazionalismo. Cioè gli stati fenomenici, uno stato del pomodoro, è un altro che uno stato rappresentazionale e intenzionale. Cioè la rossezza che io provo è una rappresentazione della rossezza del pomodoro. Le esperienze non hanno qualità proprie. Le qualità delle esperienze sono le qualità relativa agli oggetti del mondo esterno e al modo in cui il sistema nervoso li rappresenta. Però su questo si può abietare che possono dire tranquillamente degli stati rappresentazionali non coscienti. Per cui c'è la cosiddetta hot theory, cioè higher order theory of consciousness, per cui ciò che rende uno stato mentale conscio è essere l'oggetto di uno stato mentale simultaneo, sovrallinato, che lo rappresenta o lo monitora. La coscienza quindi sarebbe possibile una costruzione di meta-rappresentazioni, cioè nella dicitura più classica, di pensieri sui propri pensieri che renderebbero il soggetto capace di produrre un commento sulle procreazioni esterne o interne. Un esempio sono i soggetti amnesici che pur possedendo rilevanti capacità di apprendimento secondo il know-how, per esempio, perdono la capacità di sapere e di possedere tali capacità. All in sight, la visione cieca, in cui si può mettere in atto delle abilità visive senza rendersi conto di possederle. Però anche in questo caso esistono processi di monitoraggio sia cerebrali sia in un computer che sono non coscienti. Un'obiezione alla teoria computazionale della mente è quella di essere in qualche modo diversa da come è organizzato il cervello e di avere dei limiti, cioè da essere basata su un programma. Quindi una rivoluzione che c'è stata negli anni 90 dello scorso secolo è stata quella del connessionismo e delle reti neurali. In qualche modo è un'espansione verticale delle scienze cognitive. per cui le reti, a differenza delle computazioni, operano in parallelo e a differenza dei programmi, apprendono. Non sto a soffermarsi con questo. Però questo diciamo che è stata un'espansione in qualche modo verticale. Quindi le reti neurali è anche la cosiddetta neuroscienza computazionale che cercava di applicare la computazione e che cerca tuttora di applicare la computazione ai sistemi cerebrali. Però un altro tipo di espansione che è anche molto interessante è stata quella chiamata orizzontale verso il corpo, verso l'ambiente, che utilizza tra l'altro sistemi dinamici non lineari. Assume un punto di vista evoluzionistico. Noi sappiamo che tutta la teoria dell'informazione e anche l'intelligenza artificiale partono da problemi molto, se vogliamo chiamarli, di alto livello, come giocare a scacchio e dimostrare problemi. Ma per esempio invece questo tipo di impostazioni parlano per esempio della robotica situata. Lo studio di come un insetto può, quindi un organismo relativamente elementare, può muoversi, può comportarsi, può in qualche modo interagire con l'ambiente. Come dice noi, affinché si possa comprendere la coscienza, ovvero il fatto che pensiamo, sentiamo, e un mondo si manifesta davanti a noi, occorre prendere in considerazione un più ampio sistema rispetto al quale il cervello rispetta solo un elemento. La coscienza non è qualcosa che il cervello ottiene da solo, la coscienza richiede l'operazione congiunta del cervello, del corpo e del mondo. Quindi si parla di quella che si, la e-cognition, cioè la cognizione con le quattro E, embodied, cioè il pensiero incorporato, embedded, non separato dall'ambiente, extended, la mente estesa appunto, che va oltre i confini del corpo, e l'enacted, per cui la cognizione è azione. Faccio solo qualche esempio molto semplice, per cui per esempio i processi cognitivi non sono strettamente limitati ai confini del sistema nervoso del corpo. Io posso usare un taccuino, una penna, non parlo di un computer che mi svolge a un certo tipo di elaborazione, ma parlo di di artefatti, che comunque possono in qualche modo estendere e far parte della mia mente in qualche modo e facilitarne l'utilizzo. Un altro è quello secondo il paradigma del senso motorio che percepire significa agire. La percezione non è statica, passiva, ma dipende dall'orientamento e dal movimento del corpo. Ad esempio, se io vedo il retro di una macchina, sapere come è fatta una mattina vuol dire conoscere i movimenti necessari per accedere all'informazione che in quel momento non sono disponibili. Se io tengo una bottiglia in un modo so che per tenerla in mano mi servirà un certo tipo di presa, ma per versare dell'acqua mi servirà un altro tipo di presa. Quindi andiamo al di là di quella che è la rappresentazione nel senso classico. Un'altra visione è quella per cui non oragiamo sulla base del pensiero, ma il pensiero è un'interizzazione dell'azione, comprendere un enunciato e simulare e riattivare i circuiti neuronali che si attivano quando siamo impegnati in compiti e percettivo motorio. Se io dico taglio qualcosa con la forbici io non faccio altro che pensare a quello che faccio quando sto tagliando con la forbici. e per finire complicare questo quadro di presentazione diciamo che ci sono anche teorie prima l'ho detto che in qualche modo il dualismo delle proprietà e il monismo non riduzionistico non sono poi così antitetici Kim ha posto un problema insomma per cui noi dovremmo conciliare delle proposizioni apparentemente incoerenti e difficilmente conciliabili fra loro cioè uno è il fisicalismo per cui tutto è fisico l'altro è l'anti-eliminativismo cioè gli stati mentali hanno esistono sono un'ontologia reale sono dei geni naturali come l'acqua e non solo nominali come nel funzionalismo e l'antiriduzionalismo per cui le proprietà mentali sono distinte da quelle fisiche queste ottiche sono quelle dell'emergentismo del fenomenismo della sopravvenienza dell'ilomorofismo allora l'emergentismo diciamo in qualche modo è abbastanza intuitivo è quella nozione per cui la mente emerge a un certo punto da un'organizzazione cerebrale di una certa complessità spesso di una certa complessazione e assume che questa mente che emerge possa in qualche modo esercitare una retrocausazione sul sul cervello invece l'epifinomenismo è una teoria fisicalistica secondo gli eventi cerebrali mentali sono causati coscienti sono causati gli eventi neuronali ma sono inerti non hanno in sé capacità causali sono come il fischio di un'anero collettivo al vapore che accompagna il funzionamento del motore senza pensarlo questo è abbastanza anche controintuitivo perché significherebbe che quando decidiamo di alzare un braccio sono i processi neuronali casali rimolvimento e la sensazione anche di avviare consapevolemente l'azione e non solo la mente non agisce sul corpo la mente non agisce nemmeno sulla mente cioè non posso nemmeno avere una catena di pensieri coscienti causalmente collegati quindi è simile in qualche modo all'emergentismo cioè attribuisce le proprietà fisiche dell'organismo alla generazione delle proprietà mentali ma come semplici sottoprodotti potremmo dire effetti collaterali del cervello senza capacità causale in questo modo anche è compatibile con i quali se vogliamo questa teoria che è poco appunto poco intuitiva poco plausibile ha senso comune perché se io dico voglio alzare qualcosa con un braccio sicuramente ho difficoltà a concepire che non sono io con la mia mente a farlo se è controintuitiva però è una delle teorie che tutto sommato non dico che stanno in piedi ma hanno hanno meno dei difetti fondamentali un problema del fenomenismo è che è poco conciliabile o non conciliabile con l'evoluzionismo cioè la coscienza in sostanza non servirebbe a nulla un'altra posizione che va abbastanza per la maggiore in questo periodo è quella della sopravvenienza che è stata introdotta per le qualità morali estetiche cioè le le proprietà le proprietà morali le proprietà comunque in senso lato poi mentare avrebbero una reazione di dipendenza che implica covariabilità e non riducibilità fra le proprietà coinvolte cioè quelle mentali e quelle fisiche come dice David le caratteristiche mentali sono in qualche senso dipendenti da o sopravvengono a caratteristiche fisiche si può intendere la sopravvenienza nel senso che non possono esserci due eventi simili in tutti gli aspetti ma diversi per qualche aspetto mentale se io per ipotesi opero il teletrasporto di una persona questa persona avrà le sue proprietà fisiche trasportate in un altro luogo e dovrà mantenere le medesime proprietà mentale c'è l'idea che il mondo sia in qualche modo stratificato su una gerarchia di caratteristiche in cui i livelli superiori hanno la propria autonomia non sono riducibili automaticamente a quelli inferiore un problema della sopravvenienza che non spiega in alcun modo come e perché le proprietà mentali sopravvengono su quelle fisiche la spiegazione è solo verbalistica non abbiamo idea di come ciò sia possibile un'altra teoria che spunta da tempi antichi che adesso è stata ripresa può sembrare stranamente ma è stata ripresa e lo vedremo anche perché è quella che sarà stata proposta da Aristotele per cui ogni sostanza esistente è costituita da materia e forma un po' la conosciamo la materia passiva estesa è uguale per tutti i corpi mentre la forma è un principio attivo l'anima non è ontologicamente separata dal corpo ma coincide con la sua forma e la vita in potenza di un corpo sappiamo che Aristote distingueva fra anima vegetativa nutritiva sensitiva intellettiva ne abbiamo parlato accennato la volta scorsa anche questa posizione implica una gerarchia di strutture fisiche a molteplici livelli perché è stata riproposta questa questa posizione che sembrava ovviamente superata dal quantomeno dal 1600 in poi insomma per cui è difficile concepire una materia senza delle proprietà anche strutturali è stata riproposta da certe biotele biologiche contemporane in quanto ciò che distingue gli esseri viventi dagli oggetti inanimati non sono i materiali che li compongono ma il modo in cui sono organizzati se ci pensiamo il nostro corpo si rinnova continuamente nel nostro metabolismo adesso non so dopo quanto esattamente ma dopo qualche mese probabilmente noi non siamo gli stessi abbiamo un corpo diverso da quello che avevamo 8 mesi fa o un anno fa cioè il corpo viene sostituito da un altro quello che rimane è l'organizzazione che continua a esistere sono la struttura e la forma di un individuo per sì che egli sia membro di un certo genere è l'organizzazione che consente di fare descrizioni accurate e previsioni efficaci la scienza fisica non sembra essere sufficiente a spiegare la complessità dei sistemi viventi anche questa teoria ovviamente ha difficoltà a spiegare le sensazioni soggettive allora ho fatto una carrellata abbastanza rapida abbastanza veramente incompleta ma anche numerosa perché per capire le principali ce ne sono anche altre posizioni sul rapporto mente corpo ma a questo punto chiediamoci perché ci poniamo il problema che cosa sostiene la questione mente corpo mente corpo deriva dal fatto che si era ovviamente posto cartesio in maniera forse più di altri pensatori per cui alcuni aspetti mentali sembrano diversi difficilmente riducibili a quello del mondo fisico il problema è questo sostanzialmente in qualsiasi modo noi lo lo poniamo in qualsiasi modo cerchiamo di risolverlo il problema è questo cioè la diversità e la non riducibilità delle di certe entità mentali sappiamo che l'idea del dualismo era sostanzialmente da Platone da in parte anche non completamente se pensiamo non so alla risurrezione del corpo dalle religioni monoteistiche da cartesio soprattutto ma pensiamo che il dualismo è anche anche se non in tutte le culture nelle culture orientali sicuramente no e neanche in certe culture occidentali più antiche non c'è mai una descrizione nel senso mentalistico della persona umana ma comunque nella nostra cultura il dualismo è anche una visione ordinaria nel senso comune quanto noi tendiamo a considerare il mentale come qualcosa di distinto dal nostro corpo anche se è strettamente intrecciato con esso come riconosceva lo stesso cartesio allora il problema è chiaro che si è reso evidente col diffondersi l'affermarsi del metodo scientifico ed in una congezione quindi materialistica del mondo tutto ciò che cade nel mondo è riportabile al fisico e anche a successo potremmo dire di questa posizione scientifica materialistica che ha spiegato in maniera molto più efficace molti fenomeni molti misteri che non potevano essere spiegati in altro modo una cosa che dobbiamo dire che era presente nel 1600 quando parlavamo di mente corpo con una congezione della materia del corpo come ingranaggio il sistema di pompe idrauliche questo l'abbiamo già detto la volta scorsa ma è rimasto sostanzialmente immutato con il progressivo affinaccio della nostra concezione del cervello però è rimasto immutato fino a un certo punto il problema è che la componente differente e non riducibile si è progressivamente erosa nel tempo e si è erosa a scapito della mente cosciente la spiegazione del pensiero intesa come intelligenza e capacità rappresentazionale ha fatto passi dal gigante nei circa 50 anni trascorsi dalla nascita della scienza cosentiva cosa che non può dirsi per la ricerca di una spiegazione naturalistica delle basi dell'esperienza soggettiva che è tuttora oggetto di discussione intensa tanto che Jackenov parlava non solo problema di mente corpo come si accennava prima ma problema di mente mente cioè di una mente computazionale e di una mente fenomenologica al problema nasce da lontano in realtà non è solo di questi ultimi anni nasce in qualche modo anche con la scienza cioè la nascita delle scienze fisiche moderne è stata resa possibile dalla messa a punto di un metodo che permetteva di esaminare il mondo fisico non funziona nel modo in cui appare ai nostri sensi bensì in quanto regno oggettivo che esiste indipendentemente dalle nostre menti però il prezzo di tale progresso spettacolare è stata esclusa dell'apparenza soggettiva della realtà e così quando la scienza applica i propri sforzi alla spiegazione della qualità soggettiva dell'esperienza quest'ultima non ha alcun luogo dove rifugiarsi ne consegue che la forma tradizionale di analisi scientifica non offre una soluzione praticabile nel caso della mente di questa espulsione della soggettività della realtà studiabile c'è anche e rintracciabile nella descrizione abbastanza famosa dello stesso Galileo che scriveva ma nei corpi esterni ma che nei corpi esterni per eccitare i noi insapori gli odori i suoni si riecheggia altro che le grandezze figure moltitudini e movimenti tardi e veloci io non lo credo e stimo che tolti via gli orecchi le lingue i nasi restino bene le figure i numeri i moti ma non già gli odori nei sapori nei suoni li quali fuori dell'animale vivente non credo che siano altro che nomi e questa che chiaramente è anche discutibile questa distunzione perché insomma anche ciò che provoca un rumore ciò che provoca l'odore è accompagnato da delle caratteristiche fisiche però è stata ripresa anche dall'Oc cioè nella sua famosa distinzione fra le qualità primarie che lui distingueva in grandezza figura numero situazione movimento cioè collocazione movimento per cui diceva che le qualità osservabili appartengono agli oggetti che sono nel corpo sia che noi le percepiamo meno e sono esprimibili soprattutto in termini quantitativi e matematici mentre le qualità secondarie sono le esperienze suscitate da certe caratteristiche degli oggetti sono il risultato dell'azione che sì dell'azione che i corpi esercitano nei nostri sensi ma senza che debbano assomigliare ad alcuna qualità reale dei corpi stessi in qualche modo se io vedo un triangolo io ricostruisco una struttura la forma di un triangolo nella mia mente questo non è nel sentire un odore ad esempio quindi dobbiamo distinguere fra quelle che sono non è solo comunque un problema di qualità primaria e secondaria ma un problema anche di altro tipo fra i fenomeni mentali come diceva Kin dobbiamo appunto distinguere gli aspetti qualitativi fenomenici come le sensazioni e le emozioni e gli aspetti intenzionali cioè le rappresentazioni mentali e le attitudini proposizionali gli aspetti fenomenici li conosciamo più o meno ne abbiamo anche parlato cioè le sensazioni le emozioni i sentimenti c'è qualcosa che si prova che fa un certo effetto essere un certo tipo di organismo come diceva Nagel eccetera eccetera sono primitivi sono privati scusate soggettivi in prima persona eccetera eccetera l'intenzionalità al contrario costituisce secondo Brentano ed è stata poi studiata anche ripresa da numerosissimi autori contemporanei da Deine da Serla da altri costituisce la caratteristica peculiare di tutti gli stati mentali quindi parliamo comunque di stati mentali e la capacità della mente per cui gli stati mentali si riferiscono hanno come oggetto vertono su cose o stati del mondo diversi da se stessi cioè hanno proprietà rappresentazionale un contenuto non necessariamente esistente ma tale da rendere gli stati semanticamente valutabili ora intenzionalità e rappresentazione non è la stessa cosa però diciamo in qualche modo assimiliamoli per semplificare il discorso in questo caso quindi i fenomeni mentali e l'intenzionalità comprendono le rappresentazioni mentali che stanno per qualcosa e comprendono qualcosa di più diciamo strutturato di più articolato nelle rappresentazioni mentali come per esempio gli atteggiamenti proposizionali che hanno condizionità di verità e di realizzazione atteggiamenti proposizionali per esempio io credo non so che smetta di piovere io spero che smetta di piovere io dubito che smetta di piovere e questi fenomeni mentali comunque hanno una concezione pubblica sono in qualche modo osservabili sono in terza persona sono comunque concettualizzabili in terza persona quindi in sostanza parlavamo della rappresentazione delle computazioni e delle qualità primarie degli oggetti che cos'è che è riducibile che così che è riducibile è qualcosa in qualche modo di fisico in senso lato sono riducibili come dicevamo quelle che appunto Locke anche Galileo chiama le qualità primarie che non sono altre qualità oggettive e strutturale è riducibile tutto quello che il mentale inteso nel senso o intenzionale o rappresentazionale ad esempio riconoscimento le reti neurali la computer vision la consapevolezza se la intendiamo come meta rappresentazione la relazione di coscienza come accesso la funzione in senso lato computazionale del cervello i problemi legati all'integrazione quindi comprende anche molte teorie della mente attuali di cui avevamo anche parlato la volta scorsa su cui non ritorno ma il succo qual è? il succo qual è? il succo è che la riducibilità vuol dire essere riportare qualcosa a una struttura a un'analizzazione cioè Loritz individua la possibilità di analizzare in termini strutturali gli aspetti della coscienza apparentemente non strutturali come i quali alla soluzione del problema difficile della coscienza quindi è riducibile tutto ciò che è strutturale che cosa non è riducibile e torniamo alle solite cose cioè a quella che la coscienza fenomenica ha dato dalla soggettività dai quali a dai what it's like ma allora di questi questi aspetti qui e questo è l'ultimo così aspetto su cui mi soffermo sono effettivamente non riducibili o cosa non è riducibile di questi aspetti allora la soggettività se noi l'analizziamo sarà un'analisi se vogliamo elementare schematica che impoverisce quello che noi sentiamo come soggettività però molti aspetti della soggettività possono in qualche modo essere oggettivi alzati per esempio la soggettività che cosa significa cerchiamo di definirla cerchiamo di analizzarla nelle sue componenti può significare per esempio conoscenza di aspetti legati al sé in quanto distinti da quelli legati alla rete esterna non solo questo ma anche la conoscenza del sé come entità conoscente può significare lo sappiamo punto di vista può significare la nozione della gente può significare qualcosa che è un portatore di interessi di valori e di priorità può significare come dice Damasio il possesso però tutte queste cose se intendiamo con questa soggettività non sono necessariamente soggettive c'è anche un'automobile ha l'indicatore per la riserva per cui sa di avere poca autonomia una macchina fotografica ha un punto di vista un'automa che mette in atto dei comportamenti risposta degli stimoli ambientali interno è un agente come dice la robotica situata un'automa può avere dei valori nel momento in cui attua dei programmi vediamo l'esempio degli automobili a guida autonoma che possono avere dei conflitti fra proprietà diverse in un videogioco anche se questo è limitativo però possiamo rappresentare in qualche modo la forza la vitalità del giocatore i qualia allora i qualia sono stati considerati non riducibili però questo ne ho parlato ma torno ad accennare a questo rispetto a quella che è la posizione dei dei church sui qualia per cui loro dicono che i meccanismi che chiamiamo coscienti possono essere spiegati nel contesto di un modello ispirato al connessionismo alle reti neurali cioè gli stati qualitativi possono essere identificati con vettore di trasmissione dell'attività neurale all'interno di speciali strutture di reti neurali adesso io non sto qui a analizzare nel dettaglio questi aspetti però un certo tipo di colore è qualcosa che si colloca in uno spazio tridimensionale per cui il grigio e il blu sono vicini ad altri colori e lontani da altri tipi di colori questo è l'esempio per esempio della caricatura per cui la caricatura è qualcosa che in qualche modo anche se sembra paradossale assomiglia più di un ritratto fedele alla persona però se noi poniamo in qualche modo su un vettore la caricatura è qualcosa che si colloca in una linea che si congiunge col volto medio proprio tipico quella media di tutti i volti possibili e nel cui in mezzo sta la rappresentazione veritiera la rappresentazione più naturalistica del volto quindi può essere espressa in termini vettoriali quindi che differenza c'è fra l'esperienza qualitativa di un colore e l'attivazione di alcuni vettori di trasmissione all'interno di speciali strutture di reti neurali consideriamo anche che proviamo per esempio a fare un'operazione parliamo della rossezza del rosso ma proviamo a pensare di vivere in un modo bianconero noi oltre a una certa età siamo vissuti siamo cresciuti con la televisione bianconero e non era sicuramente un mondo meno fenomenicamente valido di quello a colori però se in questo modo più semplice del tutto fenomenico diventa più difficile parlare della nerità del nero come di un elemento intrinseco cioè il grigio scuro è scuro perché differisce dal bianco più del grigio chiaro e meno del nero il nero è nero perché differisce dal bianco più di ogni tonalità del grigio in certo senso una certa tonalità in relazione sia con qualcosa che è presente nel campo dello stimolo e sia con qualcosa che è al di fuori di esso se ci limitiamo a questo quindi in sintesi la percezione delle qualità cosiddette elementari comporta il coinvolgimento della memoria nel campo cosciente come è del male effettivamente espresso con il concetto di presente ricordato la qualità secondaria implica delle somiglianze delle differenze con dei pattern di riferimento che non possono derivare esclusivamente dallo stimolo attuale e che in qualche modo debbono manifestarsi coscientemente in altre parole non solo le premesse della qualità percepita ma anche la qualità percepita stessa nel modo in cui viene percepita comporta il coinvolgimento di elementi non presenti nello stimolo questo ci dice che comunque voglio dire la percezione per esempio del grigio è qualcosa di molto più complesso di quello che si pensa perché quanto o meno comporta il riconoscimento e il confronto con altre tonalità ed è difficile pensare che questo non manca per il rosso un colore come il rosso immerso in una gamma di relazioni molto più complessa come abbiamo visto prima che comprende oltre la dimensione chiaro-oscuro la saturazione il rapporto con altri colori e così via ma è sempre una gamma di relazioni tanto che se noi andiamo a leggere perché poi si è ne parlato in svariati modi non sempre corretti gli udis è quello che ha coniato il termine di qualia li chiamava universali soggettivi cioè qualcosa universale in quanto possono essere ripetuti in diverse esperienze quindi riconoscibili come identiche in due diverse esperienze quindi per vedere un certo tipo di colore devo avere in qualche modo un confronto attuale con qualcosa che riconosco quello è rosso come era rosso nella percezione che ho avuto un giorno prima allora abbiamo visto un attimo la possibile riducività almeno per alcuni aspetti della soggettività e dell'equalia rimane che cosa rimane il concetto di what is this like di Nagel traducibile come è cosa si prova che effetto fa è difficilmente traducibile come concetto che è un concetto simile ma anche in qualche modo differente rispetto ai quali forse non si tiene conto del fatto che un concetto come what is this like è un concetto abbastanza potremmo dire sporco insomma non è non è completamente non è puro non è suggestivo ma vago mal individuato ambivalente forse è successo per questo come dice Loris il modo più comune per introdurre il problema difficile è intuitivamente attraente ma piuttosto scuro il significato in realtà che cosa significa cosa si prova a potremmo dire che in qualche modo le cose si prova a o come che effetto fa a è fatto in qualche modo di una qualità pura che in qualche modo che abbiamo visto può essere oggettivabile con dei vettori di una relazione col soggetto che anche questa può essere in qualche modo oggettivabile e di qualcosa che invece non è oggettivabile cioè il feeling cioè la sensazione nel senso che è molto più vicino al concetto di emozione il concetto di qualcosa che comunque provoca piacere o dispiacere quindi non è non è riducibile nella relazione col soggetto non in quanto tale ma in quanto soggetto che prova che prova qualcosa allora qui veniamo e concludo qui a quella che è stata l'ultima diciamo l'ultimo libro feeling and knowing in cui lui fa una proposta che per qualche aspetto è anche provocatoria ecco della coscienza in cui dice sostanzialmente che tutte le immagini per immagini non solo quelle visive ma anche quelle di altro tipo sono trasportate la conoscenza sono correlate al sapere al knowing però un'esperienza sensoriale di questo tipo di sé per sé non è non è cosciente è priva di esperienze coscienti che cosa deve succedere perché un'immagine sia cosciente succede che dobbiamo sentire cioè feel sentire qualcosa che cosa occorre per avere sentimenti invece di mere percezioni in primo luogo tutto quello che sentiamo corrisponde a stati del nostro corpo il nostro ambiente interno impegnato a regolare funzioni degli organi interni necessari per la vita da alimentarsi a bere a provare rabbia ad avere paura a cooperare con gli altri e provare gioia e così via i profili di attività chimica all'interno di un particolare organismo denotano vari gradi di successo fallimento nel tentativo di assicurare l'omeostale della sopravvivenza questi profili costituiscono una valutazione naturale del processo vitale in corso una sorta di voto d'esame naturale che si presenta questo è importante sotto forma di una qualità piacevole o spiacevole leggero o intenso quindi i sentimenti i feeling entrano in questo quadro perché esiste una corrispondenza manifesta e di principio fra il grado di successo e il successo dei processi regolatori della vita da un lato e la varietà di sentimenti positivi o negativi che esprimiamo dall'altro ma i sentimenti e le emozioni non ci avvisano semplicemente che qualcosa è adatto in adatto alla sopravvivenza ma anche ci spingono ad agire sono in qualche modo motivano le nostre azioni e sono legati a un possesso della mente da parte dell'organismo quindi in sintesi per concludere potremmo dire che l'attività mentale consiste in un flusso di immagini che che mappano aspetti del mondo intorno a noi ma queste immagini di per sé non sono consce perché siano consce esse devono essere collegate a una prospettiva a un possessore a un sé che dopo tutto è ciò che la soggettività significa e qui c'è che e qui entra in azione le emozioni i sentimenti come Danasio usa questo termine feeling registra come bene o male positivamente o negativamente con piacere o dispiacere i vari sottosistemi di cui siamo fatti stanno facendo per mantenere l'omeostasi per mantenere l'organismo vivo e fiorente quindi in sostanza come diceva il soggetto che prova e sicuramente nessun elaboratore prova qualcosa su questo cioè questo aspetto difficilmente riducibile io mi fermerei qui semplicemente così ricordando che siamo partiti fra il rapporto fra mente e cervello in cui una volta si intendeva in qualche modo la mente cosciente per il cervello mentre il dibattito attuale verte soprattutto sul rapporto fra mente non cosciente e cervello in cui la coscienza è qualcosa che se ne sta un po' a latere e non si sa bene che cosa centri e come venga prodotta se vogliamo che anche noi come psicologi come fenomenologi come psichiatri in qualche modo entriamo nel nel dibattito e consideriamo la 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 mente cosciente non come un effetto collaterale dell'evoluzione ma qualcosa che ha un ruolo causale funzionale dovremmo inserirlo in un contesto di questo genere in cui il cervello si causa la mente ma causa una mente sia non cosciente sia una mente cosciente in cui in qualche modo questi due aspetti interagiscono e come abbiamo visto con i punti di domanda non sappiamo assolutamente come mentre sappiamo in qualche modo come il cervello in qualche modo da origine non la mente se la riprendiamo come mente non cosciente mi fermo qua grazie e apriamo il dibattito grazie a te Bruno devo dire che il percorso è stato molto interessante direi che se riesci a togliere la condizione dello schermo dovrei riuscirci sì benissimo ci vediamo tutti se qualcuno dei presenti vuole fare qualche commento abbiamo il tempo per quanto Andrea beh per prima cosa complimenti perché come dire hai condotto questa navigazione in un mare estremamente complesso riuscendo a illustrarci bene quelle che sono le determinanti della questione io vorrei fare una considerazione e da questa considerazione farti due domande estremamente collegate la prima considerazione rimanda al 399 a.C. il Socrate è in prigione condannato per i Eusebias per impietà e sta discutendo non mi ricordo se con Fedone o con Critone e gli dice che insomma l'hanno condannato per impietà perché l'hanno accusato che poi lui seguiva queste teorie di Anastagora ma lui non seguiva le teorie di Anastagora perché Anastagora diceva che il il sole è un pezzo di terra infuocata e così le stelle e queste erano teorie che si compravano al mercato per i soldi dice Socrate Anastagora diceva anche che noi siamo fatti di nervi siamo fatti di muscoli e che l'unica cosa che noi in realtà siamo sono i nervi e i muscoli e Socrate dice guarda che questa è una teoria assurda perché serve come dire che il fatto che io sono qui che sto aspettando che mi si porti la cicuta è il fatto che i miei nervi e i miei muscoli sono in questa condizione in questa posizione quando in realtà la faccenda è che gli attenesi mi hanno condannato a morte per impietà perché io sono accusato di aver corrotto i giovani rispetto alla questione della verità allora questa siamo a 399 però il problema si ripropone e si ripropone sostanzialmente in quella che è poi il gap che tu hai posto rispetto a quella che è l'immagine manifesta l'immagine scientifica da una parte si sta dicendo un mucchio di cose anche se con molta difficoltà però noi abbiamo un'immagine manifesta l'immagine manifesta è poi quella appunto della nostra quotidianità della della maniera Churchill andirebbe estremamente fasulla faca l'ecologista con la quale noi leggiamo la nostra identità leggiamo il nostro modo leggiamo le relazioni interpersonali e non si vede come questa cosa possa essere in qualche maniera sostituita da un altro linguaggio per cui con questo linguaggio comunque noi dobbiamo fare i conti allora da questa cosa io ti faccio due domande perché tu alla fine hai accennato quella che è la questione del rapporto con la psichiatria che poi nella nostra quotidianità psichiatrica è fatta soprattutto di mondo manifesto cioè appunto mondo secondo il senso comune e mondo secondo quella che è la psicologia popolare e allora ti domando ma perfetto cioè tutte queste teorie queste riflessioni che cosa poi ci dicono in due ambiti che sono l'agire psichiatrico cioè la psichiatria pratica e la ricerca psichiatrica in che maniera queste cose questi vari modelli ci dicono qualche cosa che può aiutarci in quella che è la nostra quotidianità e l'altro aspetto che poi è l'aspetto speculare in che maniera la psichiatria e quindi gli universi particolari della mente con tutte le sue specificità che noi chiamiamo patologiche in realtà può aiutarci in questo dibattito fra i vari modelli mi sto rendendo conto che sto facendo delle domande molto difficili vuoi che provo a rispondere o aspettiamo ah non lo so decido il senso che aspettiamo altre domande magari se c'è qualche altra osservazione facciamo un attimo un giro vediamo Ludovico attiva l'audio Ludovico attiva l'audio tanto grazie dicevo anche se naturalmente c'è sempre questo divario molto secondo me anche che si diva un divario molto esteso appunto come diceva Andrea tra quella che è un po' la ricerca e quella che è la pratica mi è parso dal tuo discorso che alla fine tu me ne proponevi con forza quella visione fenomenologica della che qui potremmo definire la fenomenologia e la scienza di ciò che appare la coscienza e tu dicevi che quello che appare la coscienza effettivamente non è così semplice ma in realtà noi dobbiamo sempre metterci d'accordo perché quando siamo in campo psichiatrico abbiamo un'idea della coscienza che è qualche cosa che da Jasper se in poi è diversa da tutto quello che sono state poi i tentativi di comprendere effettivamente per una parte quali sono i meccanismi neurali che sono alla base di questa capacità così complessa che è l'essere umano di essere consapevole da Jasper che è una felice espressione diceva che è il tutto colto in un momento ma è il battito d'occhi cioè la capacità che ha l'essere umano di essere consapevole di sé del mondo esterno di quello che sta facendo del fatto che noi adesso stiamo discutendo di questo senza che ci debba essere un aspetto riflessivo e quindi che è qualche cosa che noi possediamo in questo modo ma che è molto diversa questa capacità naturalmente poi che viene offuscata e tutti i disturbi della coscienza così come noi li conosciamo nella psicopatologia classica sono qualche cosa che ha a che fare con questo aspetto complessivo che invece e questa è la domanda che ti facevo mi pare che in tutte le ricerche tende ad essere un po' smembrata cioè nel senso di arrivare o tentare di arrivare alla base di quella che è questa capacità complessiva questo cogliere il tutto in un momento ed essere in grado di esplicare il nostro pensiero le idee cogliere il rapporto col mondo essere in relazione con gli altri che effettivamente sembra essere come dire il substrato ultimo per cui non a caso città di Nagel e ciò che si prova a essere il famoso testo ciò che si prova a essere un pepistrello cioè chi è che può dire ciò che si prova quello che l'altro prova in fondo dentro di lui nessuno quindi noi siamo sempre costretti da una parte a pensare a qualche cosa che ci deve comunque avvicinare ai fenomeni mentali dell'altro visto che facciamo gli psichiatri sapendo però che non ci arriveremo mai così vicino che in realtà anche negli disturbi della coscienza della psicopatologia classica noi possiamo descriverli possiamo distinguerli eccetera però in realtà fanno parte di una situazione in cui noi ci avviciniamo molto da un punto di vista fenomenico ma non in modo intrinseco forse ma questo è un discorso che ci porterebbe fuori Arié con la sua concezione della malattia mentale come destrutturazione del campo di coscienza forse ha fatto un passo in avanti per quanto riguarda la la psichiatria però il discorso di oggi chiaramente capisco che non era solo riguardante la psichiatria perché oramai non è più possibile pensare che sia riguardi solo la psichiatria però mi pare che tu giustamente dicevi che non può escludere la psichiatria perché alla fine chi si occupa di questi aspetti normali e soprattutto patologici siamo proprio noi provo se volete provo a rispondere perché c'è anche Giuseppe che voleva dire una cosa e poi anch'io velocemente posso rispondere le prime due prima dai rispondi le prime due perché se no sono già complicate le prime due nel senso che mi viene da dire che innanzitutto la la fenomenologia non è non è utilizzata molto nel campo delle ricerche delle coscienze sicuramente la fenomenologia è stata la chiamiamola la disciplina che più si è occupata insomma ecco di quella esperienza insomma l'unico problema della fenomenologia se la vediamo a livello più alto anche a livello psichiatrico è che si occupa di esperienze estremamente complesse ora se noi vogliamo fra virgolette dal punto di vista scientifico studiare un fenomeno dovremmo ridurlo agli aspetti più semplici se io parlo non mi viene in mente un esempio ma uno qualsiasi degli esempi della consapevolezza di sé della sospettosità delle sensazioni che può avere un soggetto schizofrenico parliamo di complessi di 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 abili tipici dell'essere umano insomma noi in teoria dovremmo e forse per quello si parla anche di sensazioni di banalmente del dolore della rossezza del rosso dovremmo cercare di analizzare gli aspetti più semplici poi teniamo conto che la fenomenologia è uno strumento di conoscenza in qualche modo studiare la coscienza studi significherebbe studiare questo questo strumento di conoscenza e studiarlo appunto cercando di limitarli a di limitarli sui aspetti molto più semplici per quello non è questione che viene scorporata sappiamo che un'esperienza non può essere scorporata anche se io ho un'esperienza molto semplice di dolore o vedo uno schermo nero davanti a me anche questa è comunque un'esperienza complessiva però dovrebbero essere esperienze più semplici per quanto riguarda Andrea lui ha posto invece una hard question che praticamente non siamo in grado di risolvere però io quello che volevo cercare di dire che probabilmente la psichiatria in quanto disciplina che si occupa comunque di emozioni di sentimenti di affetti nelle loro forme anche patologiche è probabilmente molto più vicina alla coscienza di quanto si pensi se voglio dire un'emozione come l'ansia nei suoi aspetti funzionali disfunzionali agisce a livello cosciente noi dovremmo cercare di capire da questo punto di vista non dei suoi presupposti in qualche modo neurobiologici perché sappiamo che se noi siamo ansiosi se noi abbiamo anche fisiologicamente normalmente paura di qualcosa questa paura questa ansia si manifesta a livello cosciente non a livello inconscio quindi quando si parlava della funzione in qualche modo della possibile della coscienza dovremmo secondo me partire da questi aspetti qui questi aspetti che appunto anche Damasio metteva insieme un po' tutto ma forse anche giustamente ma quelli aspetti che coinvolgono il piacere di spiacere che possono andare dal dal fatto che mi sono pestato un dito al provare ansia a provare gioia a trovare dei sentimenti molto più complessi molto più elevati insomma però tutte queste cose hanno nel loro insieme in qualche modo una sensazione di piacere e teniamo conto che questi qui sono gli aspetti anche più sconosciuti più misconosciuti del nostro del funzionamento mentale noi sappiamo alla fine abbiamo visto quel cognitivismo molto sul livello di elaborazione del ragionamento della rappresentazione del mondo della percezione ma è quello che rimane comunque un mistero e dobbiamo chiederci perché la posizione attuale è quasi che sensazioni che emozioni come l'ansia o il dolore o la depressione non servano nulla cioè ci rendiamo conto di questo voglio dire questa è la posizione più che tiene di più in un campo filosofico rispetto alla coscienza e di fatto non solo non sappiamo la coscienza ma non sappiamo non conosciamo il ruolo effettivo perché la paura non è quella cosa che ci che ci spinge ad evitare un pericolo non può essere solo questo perché altrimenti non servirebbe avere paura non so se mi spiego quindi evidentemente è qualcosa di più è qualcosa di diverso è qualcosa che ha il suo senso solamente a un livello cosciente però dovremmo dare una funzione alla coscienza per dare un ruolo alla paura all'ansia alla depressione Giuseppe vai sì anch'io volevo fare una domanda a te che hai esposto delle cose molto complesse sull'onda del rapporto tra psichiatria e queste teorie della mente della coscienza eccetera per caso ho letto anch'io di recente sentire e conoscere di Damasio che mi ha molto entusiasmato devo dire finalmente ho capito cosa vuol dire il marcatore somatico e quindi parlerei nei termini in cui ne parla Damasio dunque in psichiatria abbiamo il paziente di fronte io vorrei distinguere la questione del comprendere il paziente nel senso quale del termine è una questione che oggi mi sembra appartenere un po' di più all'ermeneutica più che alla comprensione scientifica cioè a dare un senso alle esperienze del paziente a seconda della sensibilità e di ciò che lo psichiatra capisce ma senza pretendere di esaurire più in tutto questa è l'ermeneutica attuale per quanto riguarda invece il rapporto della psichiatria con le teorie della coscienza della mente proprio riflettendo su Damasio mentre lo leggevo mi ero fatto degli appunti dunque Damasio distingue la mente dalla coscienza dalla mente estesa la mente per lui non è la coscienza è semplicemente la capacità di rappresentare degli oggetti in un ambito diverso da dove stanno gli oggetti può appartenere anche ad animali molto semplici si può parlare di una coscienza primordiale ma è una capacità di questo tipo che non presuppone di per sé un io la coscienza lui la definisce un io arricchito perché come dicevi hai spiegato molto bene ciò che caratterizza la coscienza è il senso di meità il sapere che tutto ciò che è dentro di me è mio e questo secondo Damasio viene dato proprio dal marcatore somatico cioè dall'alone sentimentale emozionale che fa da sfondo che mi collega alle omeostasi ai bisogni omeostatici e che fa sé che nello stesso momento io avverta una interocezione e un pensiero sono tutti e due dentro di me questo è il concetto della coscienza mi pare che lui ha però quello che io ho capito la psichiatria ha a che fare con molti di questi aspetti e sono tutti diversi uno dall'altro per esempio la dissociazione mentale la dissociazione di cui parlava a che cosa appartiene alla mente o alla coscienza dal punto di vista di quello che dice Damasio secondo me appartiene a tutti e due ma soprattutto alla mente una cosa diversa dalla coscienza essere dissociati non è solo parlare in modo schizofasico ma tutta una serie di elementi che scompongono l'unità della persona in frammenti di movimento di pensiero di parola di azioni che va al di là della coscienza un secondo esempio io ho studiato Barison il manierismo di Barison a che cosa appartiene alla mente o alla coscienza indubbiamente non appartiene alla coscienza appartiene alla mente anche quello tant'è che nel trattato per esempio di Jaspers il manierismo viene espulso non se ne parla nemmeno dal punto di vista della fenomenologia perché non c'era motivo per parlarne e infatti è pochissimo comprensibile in Jaspers che cosa sia il manierismo mentre invece appartiene alla coscienza alcuni appartengono alla coscienza alcuni porto degli esempi molto semplici alcuni tipi di delirio per esempio i deliri che concernono l'io questi decisamente appartengono alla coscienza il fatto che un paziente mi dica che i suoi pensieri ti vengono tolti o li sono imposti questo è un disturbo della coscienza in senso proprio allora lo psichiatra di fronte a queste situazioni si trova a dover giostrarsi tra campi tra livelli diversi di spiegazione del paziente non uso il termine di comprensione perché lo riserva la comprensione armenetica ma si trova ad avere a che fare nella ricerca e anche nella comprensione del paziente io parlo soprattutto dello schizofrenico a livelli molto diversi l'uno dell'altro la fenomenologia è sicuramente una parte importante ma non è l'unica non è l'unica fonte di conoscenza per capire la schizofrenia non lo è assolutamente perché molti fatti della schizofrenia escono dalla coscienza non avvengono nella coscienza per quanto riguarda poi l'agire psichiatrico è un terzo elemento l'ermenetica da una parte lo psichiatra i vari livelli di conoscenza della mente umana dell'essere umano per quanto riguarda quello che accennava Andrea che ha scritto una bellissima lettera pubblicata sulla il nuovo decreto che è uscito facendo delle osservazioni molto belle molto intelligenti sui rischi che la psichiatria sta correndo mi pare che di essere sempre più spenta come tale sempre più adibita una funzione di controllo per certi aspetti io sono fuori da dieci anni ma penso che le cose corrono il rischio di andare così secondo Damasio questo appasterebbe alla mente estesa cioè noi condividiamo un'immensità di cose con gli altri umani appartengono non all'attoscienza ma alla mente condividiamo valori giudizi pregiudizi conoscenze culture storie eccetera questo appartiene nella terminologia di Damasio ce l'ho ben capito alla mente estesa tu che cosa ne pensi? c'era un'altra domanda? se vuoi magari io volevo solo fare un commento magari te lo faccio dopo se vuoi rispondere a questa domanda te lo faccio dopo perché tanto allora le considerazioni che hai fatto sono molto articolate mi veniva in mente che il concetto di marcatore somatico che era molto presente nei libri negli altri libri viene quasi citato in quest'ultimo che è molto molto semplice una sorta di stillato insomma in cui comunque nel bene normale in qualche modo Damasio esprime molto semplicemente se vogliamo le sue idee quindi le espone sia a giudizi positivi sia a giudizi negativi allora il fatto che qualcosa appartenga alla mente o alla coscienza cioè io in realtà quello che volevo dire forse non l'ho espresso bene alla fine ma io sono convinto che la mente sia cosciente che non cosciente contemporaneamente il problema è che non sappiamo in alcun modo quali siano le componenti coscienti della nostra mente anche in un approccio fenomenologico in cui mi viene riportato l'esperienza di una persona ma l'esperienza della persona in che misura espressione di processi coscienti o di processi coscienti cioè questo è è un mistero allo stesso modo in cui un mistero il modo in cui certe sensazioni possono essere prodotte da sensazioni cioè da stimoli cerebrali quindi non non è solo come viene prodotta la coscienza ma anche qual è il rapporto fra mente cosciente e mente non cosciente cioè faccio un esempio si dice che sicuramente è cosciente ecco provare un'emozione è sicuramente cosciente per riconoscere un volto torniamo a cose molto molto semplici gli esperimenti per esempio fatti sulle scimmie per individuare le aree cerebrali o sugli esseri umani per individuare le aree cerebrali coinvolte nell'esperienza cosciente così sì che una persona dica se vede se non vede un volto allora questo viene dato come esperienza cosciente allora chiediamoci una cosa molto semplice che cosa c'è di cosciente nel vedere molto abbiamo una risposta a una domanda di questo tipo cosa c'è riconoscimento riconoscimento probabilmente da quello che sappiamo ormai sulle reti neurali non è cosciente è un meccanismo cerebrale è cosciente del fatto che come c'è la rossezza scusa nel rosso io vedo un certo colorito della persona è cosciente il fatto che io provo qualcosa a vedere quella persona che conosco che riconosco da cui sono stupito che mi piace che non mi piace e questo assolutamente non lo sappiamo sicuramente quello che sappiamo che una maggiore specificità rispetto alla coscienza è in tutto quell'ambito che viene riportato emozioni sentimenti affetti e anche pulsioni le pulsioni che magari sono qualcosa che noi riportiamo che riportiamo un ambito inconscio che sembra un ambito inconscio chiediamoci se le pulsioni sono qualcosa che invece un po' come dice Damasio attengano in maniera abbastanza specifica le spinte attengano in maniera abbastanza specifica la coscienza e non un inconscio che non è più probabilmente un calderone un calderone in cui riborrono tutta una serie di istante di spinte di morte di eros e così via ma probabilmente è qualcosa che molto più se vogliamo freddamente se freddamente computa calcola in maniera seriale in maniera parallela ma calcola cioè l'attivazione di un istinto non ha a che fare con l'emozione essere spinti a fare qualcosa ha a che fare con l'emozione ma sì innanzitutto anch'io mi unisco abbiamo fatto questo dialogo ci ho ascoltato più volte non mi unisco ai complimenti perché sei davvero molto bravo nel riuscire a mettere insieme una materia così estesa e che ha comunque dei linguaggi diversi a un certo punto sugli ismi credo di essere perso nel senso che c'è un ismo per qualsiasi cosa insomma e mi chiedo sempre come sia possibile che poi delle idee possono essere ismizzate nel senso che ciascun parlante fa un discorso e come si fa a riconoscere in quell'ismo piuttosto che in quell'altro è chiaro che la narrazione della conoscenza non è la conoscenza e questo ribadisce un po' alcune delle cose che dici perché poi alla fine ecco ci sarebbe da parlare fino a domani mattina e non lo voglio fare io sono molto d'accordo con chi poi è intervenuto in particolare con Andrea quando dice bene cosa ce ne facciamo di queste cose cioè noi che facciamo gli psichiatri poi alla fine allora io ho pensato che il punto sta in questo la questione della psichiatria non è tanto risolvibile in termini identitari ma quanto in termini appunto facciamo nel senso in termini operativi pratici e comunque non trovarsi in certe situazioni trovarsi nelle situazioni a comunque fare con l'esperienza con creare esperienza e diventare esperienze in un certo senso gli ismi cosa fanno fanno un po' la stessa cosa che succede non so se tu fai una risonanza al cervello di una persona che ha un problema di schizofrenia ne lascia insomma sostanzialmente una fotografia possibile e dici ecco questo è la dinamica della schizofrenia che cosa ti dice sulla schizofrenia e sull'esperienza di questa persona e sulla tua modalità di stare con questa persona ovviamente ti dice niente però paradossalmente e questo è l'aspetto scientifico per virgolette la risonanza sopravvive alla morte di quella persona e alla tua alla morte di un singolo individuo nel senso che ciò che resta fondamentalmente sono le tracce i monumenti i documenti cioè ciò che in qualche maniera ha sedimentato quel processo e quel linguaggio di tipo conoscitivo e non resta invece l'esperienza di quella persona cioè quello che ha fatto e quello che le persone hanno fatto con quella persona quindi è chiaro che tutta la questione della coscienza si basa sulla rivoluzione della morte nel certo senso o se vogliamo da altri punti di vista sulla scarsa valorizzazione dell'aspetto della vita anche se anch'io io ho letto l'ultimo libretto di Damasio che è molto carino molto come ha detto Giuseppe anche entusiasmante da certi punti di vista ma continua a far pensare ai messaggi lasciati nella bottiglia di qualcuno che deve andare via e che appunto a causa dell'età dice vabbè queste sono le ultime cose che devo dire e forse non la nomina mai questa questione cioè della impermanenza della terminabilità cioè la coscienza non esiste come non esiste la questione della mente in generale al di fuori dell'esistenza della persona cioè il fatto dell'accadere appunto il fare questo è un problema che con la psichiatria è fortissimo perché quando tu fai psichiatria con qualcuno che appunto ti porta delle esperienze che sono esperienze molto pregnanti nel momento in cui fai psichiatria e fai cura con questa persona poni la questione della cura con questa persona hai la stessa identica modalità che hai quando appunto costruisci qualcosa che è irripetibilmente la vicenda umana è il famoso discorso appunto dal punto di vista a due che non è nel punto di vista della persona sola nel punto di vista edificante obiettivante in fondo lo psichiatra insomma visto che siamo in vera in citazioni mi viene in mente un vecchio libro di Blumenberg che richiama la figura lucreziana del naufragio con spettatore cioè la vicenda si trova lì sul porto o pensa di essere un porto o pensa di avere i piedi al sicuro e osserva un vascello che naufraga in mezzo alla tempesta e si pone la questione cosa faccio io come soccorro questo vascello in certi momenti sembra che la descrizione del vascello la sua spesatura la velatura di quale legno sia composto sono tutte cose molto interessanti ma cosa fa quello che è sul porto e deve sicurare il vascello è chiaro che c'è una dimensione che va al di là di quello che qualsiasi cosa noi possiamo sapere su quello che il vascello potrebbe essere o sui modelli del vascello e questa è una cosa che ti viene messa schiaffata di fronte di fronte a che cosa alla morte e quindi alla tragedia e la psicoterapia si occupa di tragedie di tragedie in maniera profonda io credo perché l'angoscia la depressione la psicosi qualsiasi cosa in senso letterale possono essere interpretate come tragedie come qualcosa che ha a che fare appunto con la caducità e con l'esperienza insomma di un umano che si confronta costantemente con questo aspetto per cui era solo un commento per dire come il punto di vista della psicoterapia e tu giustamente alla fine la ponevi come questione con degli punti interrogativi doveva inserirsi dentro questa cosa per come dire farne tesoro da certi punti di vista ma non sopravviverà mai se non riesce a valorizzare sufficientemente il fatto che un farsi e un fare è sostanzialmente relazione è sostanzialmente relazione insomma sicuramente tu dicevi che la coscienza non sopravvive all'esistenza ma non sopravvive nemmeno fuori della mente privata di una persona insomma io stavo guardando la tua immagine o così e sono conto di quanto dici magari della tua espressione posso capire alcune cose insomma ma nessuno di noi possiamo metterci nei panni dell'altro ma non assolutamente non possiamo sapere qual è l'esperienza privata di una persona che tra l'altro noi anche aggiungiamo che è anche istantanea è non replicabile un'esperienza come diceva William James non avevo mi pare accennato una definizione questa è una cosa che non viene quasi mai riproposta ma l'esperienza coscienza non può mai ripetersi esattamente uguale a se stessa quindi la nozione di qualia cioè io ho il quale del rosso lo vivevo ieri lo sperimento oggi lo sperimento in realtà non è così perché la mia esperienza è fatta sicuramente di qualcos'altro anche quel rosso che io sperimento è in relazione con cose diverse e quindi la coscienza è solo istantanea è solo qualcosa che è privata della persona e che non può nemmeno replicarsi come una quindi quello che abbiamo noi insomma è solo una fotografia dall'al di fuori insomma che non non ci dà mai una fotografia dall'identico riguardo agli ismi forse ne ho ne ho elencati un po' troppi ma era giusto per dare l'idea veramente di quante di quante posizioni ci sono non sono nemmeno all'altezza di farlo devo spiegare esattamente precisamente tutte le posizioni ma è stato molto efficace tra l'altro vi sarete accorti l'ho anche detto un po' che c'è anche un grosso margine di sovrapposizione tra le diverse posizioni non sono nettamente separate l'una all'altra insomma sono punti di vista che in qualche modo mettono l'accento su questo su quell'altra cosa ma in qualche modo hanno anche degli aspetti in comune però